Ai tempi della mia gioventù, col mio nonno, venivamo per la seconda domenica di luglio, che è la Sagra dei Santi Martiri della piazza di Cavedine, si veniva a raccogliere le patate, mi faceva guardare sotto i patateri, prendeva il suo grande fassolone rosso a scacchi, a disegni, mi faceva fare il fassoletto delle patate, si portavano a casa per festeggiare i Santi Martiri, tradizione era salsiccia e patate al forno.